Con la fantasia si può volare, si può vivere in un mondo popolato di lampade magiche e oggetti incantati, si può vincere contro le ingiustizie e conquistare il cuore della donna amata, seppur appartenente ad una classe sociale troppo elevata. Questa è la grande magia di una fiava senza tempo, che grandi e piccini continuano ad amare e raccontare. Al Teatro Sistina, dal 5 aprile, Aladin, Jasmine e il Genio incanteranno il pubblico con costumi arabeschi, tappeti che si alzano in volo, residenze reali, ori e sontuose sale, tutto allietato dalle musiche dei Poo. Un musical campione di incassi che ha visto nel primo anno di tournée 150.000 spettatori, una creatura partorita dal genio di Stefano Dorazio, che nella sua sceneggiatura ha immaginato un Aladin, scugnizzo dei nostri giorni. Lui è uno scugnizzo un pochino fuori dalle latitudini, nel senso che è vero che la storia attinge alle medie di una notte, ma lui potrebbe essere un ragazzino di qualunque periferia, di qualunque angolo del pianeta, che deve mettere insieme il pranzo con la cena, ma che ha questa sua onestà che veramente soltanto in certi angoli di mondo si trovano. La trasparenza di chi, pur non avendo nulla, riesce in qualche maniera a mantenere un suo decoro, una sua dignità, una sua onestà morale, che lo fanno diventare poi il trasparente Aladin che sposerà Jasmine. Uno spettacolo che parla un linguaggio attuale, arricchito dalla quotidianità, è rivolto ad un pubblico trasversale, non per la semplicità del testo, ma per la sua capacità di rivolgersi a grandi e piccini, usando chiavi di lettura sempre diverse. Sul palco il brillante Manuel Frattini veste i panni di Aladin, l'incantevole Valentina Spalletti sarà Jasmine. Calvo e cialtrone sarà Roberto Ciufoli ad uscire dopo 10.000 anni dalla lampada magica. È, dico immodestamente, divertente, però perché è così, è un, ripeto, è qualcuno che è conscio delle sue possibilità di poter fare e disfare perché è magico, ha possibilità di esaudire desideri, è stato dentro la lampada chiuso per 10.000 anni. Quindi quando esce non vede l'ora proprio di poter fare, poter dimostrare tutto quello che può, che può. È un genio felice, che sprizza felicità da tutti i pori e io sono felice di farlo. Un'atmosfera da mille a una notte, un'ironia a volte estrema e provocatoria, un trionfo di energia che anche a Roma si prepara a travolgere la platea di ogni età.